La vita quotidiana nel villaggio di Chonchi, nel nord del Camerun, ruota intorno alla preparazione del pasto principale della giornata. Solitamente è un piatto di sorgo secco mescolato con acqua. Non è una dieta bilanciata, ma la povertà e la scarsa conoscenza sul bisogno di assumere alimenti con proteine e vitamine ha comportato un aumento considerevole della malnutrizione in questa parte del paese. 51.000 bambini muoiono di malnutrizione ogni anno nel Camerun, molti di questi nella regione settentrionale. Una volontaria del gruppo di operatori sanitari di comunità, Sara Gianatu, ne ha fatto la sua missione, educare gli abitanti del villaggio a mangiare più sano. Percorre 15 chilometri al giorno andando di casa in casa per diffondere i concetti chiave della nutrizione, nel quadro di un programma sostenuto dall'Unicef e dal Ministero della Sanità. Visita Mavule Marie, madre di 12 figli, per controllare i progressi dei suoi bambini. Le due gemelle, le più piccole, sono gravemente malnutrite perché non hanno ricevuto una dieta bilanciata. Gli effetti sono stati invalidanti. All'età di due anni le bambine non sono ancora in grado di camminare. Una parte essenziale del lavoro di Sara è insegnare alle famiglie l'importanza di sostentarsi con cibo variato. È comune in questa regione per gli abitanti del villaggio sopravvivere con un unico pasto giornaliero a base di cereali. Gli ortaggi sono scarsi e la gente non può permettersi di comprare carne. Mavule porta regolarmente i bambini in un centro sanitario locale sostenuto dall'Unicef, seguendo i consigli di Sara. Qui essi ricevono alimenti energetici e ricchi di proteine e vitamine. Come risultato le gemelle stanno progressivamente aumentando di peso. In questa zona c'è circa 100.000 figli in queste due regioni che sono malnutrite, aiguie, cioè dei figli maigri, e che per l'instant i programmi in questi 11 distritti su 41 hanno permesso di trattare tra 5 e 10.000 figli. Quindi abbiamo bisogno di passare a l'escello di questo tipo di programmi. Per i casi più seri il trattamento salvavita è disponibile presso gli ospedali locali. Un team Unicef di medici specializzati è in grado di curare questi casi complicati ricorrendo all'alimentazione terapeutica di emergenza. I medici dicono che diffondere i programmi di nutrizione nel nord è fondamentale nella lotta alla malnutrizione e la chiave per dare un futuro più sano ai bambini del Camerun.